è una fonte di rabbia male indirizzata da manuale direi madre troppo possessiva o non abbastanza a scuola di calcio sempre in panchina lo zio di notte lo molestava adesso ha una tale rabbia che i momenti di serenità gli danno sofferenza gli scatenano l'emicrania la felicità gli provoca dolore che problema ha quello per me ne ha un mucchio di problemi altro che